Nuovo appuntamento con Spazio Notizia per ritrovati su Sicilia 24. Parliamo di cronaca partendo da Siracusa. I carabinieri della compagnia di Siracusa hanno tratto in arresto un 23enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno sorpreso il giovane spacciatore in via Antonello da Messina con addosso, nascoste negli slip, 40 mini-dosi di cocaina e hashish. La perquisizione, estesa all'abitazione dell'arrestato, ha permesso di rinvenire nella camera da letto ulteriori dosi di marijuana e 150 euro in banconote di piccolo taglio, presunto provento dell'attività di spaccio. Al termine delle operazioni, lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati, mentre l'arrestato è stato sottoposto ai domiciliari. E ora a Catania parliamo di un furto commesso in aeroporto, un furto di un paio di occhiali costosi. Gli agenti della polizia hanno subito beccato la responsabile, il servizio. Personale della polizia di frontiera, in servizio presso l'aeroporto di Catania, ha deferito in stato di libertà alla procura della Repubblica presso il Tribunale Etneo una passeggera in partenza per Milano-Linate, gravemente indiziata del reato di furto. Una donna, in partenza per Venezia, sottoponendosi ai controlli di sicurezza sulla persona e sul bagaglio, ha dimenticato all'interno della vaschetta utilizzata un paio di occhiali da sole di una nota marca italiana del valore di 400 euro. E dopo aver ultimato i controlli e raggiunto la sala in barchi, si è resa conto di aver dimenticato di prenderli. Seppure tornata velocemente alle postazioni di controllo, la passeggera non è riuscita a rientrare in possesso, realizzando che durante l'esiguo lasso di tempo trascorso, ignoti se ne erano appropriati. Acquisita la denuncia dell'avvenuto furto, il personale di polizia, tramite le registrazioni del sistema di videosorveglianza, è riuscito a individuare l'autrice del furto. Una donna, che accorgendosi degli occhiali nella vaschetta utilizzata dalla denunciante, li aveva presi per poi allontanarsi. I poliziotti della Polizia di Frontiera sono poi riusciti a rintracciare l'autrice del furto nei pressi del gate d'imbarco per Milano-Linate e a recuperare gli occhiali che successivamente sono stati restituiti alla legittima proprietaria. Torniamo a parlare di spaccio di stupefacenti. In questo caso la notizia arriva da Catania, dove i carabinieri hanno tratto in arresto un pusher, il quale tra l'altro è risultato essere percettore del reddito di cittadinanza. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania a Piazza Dante hanno arrestato in fragranza un catanese 41enne, già conosciuto alle forze dell'ordine perché è responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La pattuglia nel corso dell'espletamento di un servizio antirapina nel centro cittadino ha notato transitare in via Vagliasindi ad elevata velocità il 41enne a bordo di uno scooter, quindi al fine di verificare il suo successivo operato lo hanno seguito sino a quando ha arrestato la sua marcia quasi all'intersecazione con via Raffaello Sanzio. Hanno così notato che l'uomo sembrava essere in palese attesa di qualcosa e pertanto si sono avvicinati per effettuare un controllo che inspiegabilmente ha fatto manifestare al 41enne evidenti segni di nervosismo, scoprendone però ben presto il motivo. Quest'ultimo, infatti, sottoposto a perquisizione dai militari, è stato trovato in possesso di alcune bustine di plastica contenenti singolarmente 15 grammi di marijuana e 4 dosi della medesima sostanza già confezionate per la vendita al dettaglio, 4,10 grammi di crack e 2 dosi, una pietra di cocaina di 5,20 grammi e 5 dosi, nonché all'interno del portafoglio la somma di 375 euro anch'essa sequestrata perché è ritenuta provento dell'attività di spaccio. Il 41enne, che tra l'altro è risultato essere percettore di reddito di cittadinanza, è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. Restiamo a Catania per parlare dell'arresto di un uomo, arresto effettuato dalla Polizia di Stato e accusato di avere abusato di un minorenne, un migrante, orfano. Vediamo il servizio. La procura distrettuale della Repubblica di Catania ha delegato alla Polizia di Stato l'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere emessa nei confronti di Alfredo Florio, pregiudicato in quanto gravemente indiziato dei reati di atti sessuali con minore in cambio di corrispettivo in denaro ed altre utilità, aggravati per avere approfittato della situazione di necessità della vittima. Il procedimento ha tratto origine da una richiesta di intervento formulata proprio dall'indagato lo scorso 27 settembre, il quale si era avvicinato a un equipaggio della Polizia riferendo di avere poco prima subito il furto del proprio cellulare da parte di un giovane straniero di cui ha fornito anche il nome. L'indagato ha fornito le descrizioni fisiche del presunto autore del furto, precisando che questi alloggiava in una struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, ubicata a Catania. Nel proseguo le ulteriori attività hanno consentito di identificare il minore, il quale, raggiunto dagli agenti, ha consegnato il telefono cellulare di Florio raccontando quanto era poco prima accaduto. Le successive investigazioni, coordinate dalla procura e svolte dalla squadra mobile, sezione reati contro la persona, sessuali e in danno di minori, hanno permesso di appurare che il minore, orfano, giunto in Italia di recente via mare unitamente ad altri cittadini extracomunitari, aveva conosciuto l'indagato per il tramite di un suo coetaneo connazionale. Secondo il racconto fornito dal minore, in occasione dei diversi incontri organizzati dall'indagato, questi aveva compiuto con la vittima atti sessuali in cambio di piccoli corrispettivi, piccole somme di denaro, sigarette o birre. Il minore ha riferito che aveva poi sottratto il cellulare all'indagato nel corso dell'incontro avvenuto lo scorso 27 settembre, dopo avere respinto delle sue ulteriori avance. Dalle indagini effettuate è emerso che l'indagato avrebbe inviato alla predetta persona offesa fotografie raffiguranti il proprio organo genitale e diverse banconote da 50 euro. Il racconto reso dal giovane è stato confermato da altri testimoni. Nel contesto esecutivo, su disposizione dell'autorità giudiziaria, si è quindi proceduto al sequestro del telefono cellulare nella disponibilità di Florio per gli opportuni approfondimenti investigativi. Dopo il suo rintraccio e ad esito degli adempimenti di rito, l'indagato è stato tradotto presso il carcere di Piazza Lanza a disposizione dell'autorità giudiziaria inquirente. Avevano picchiato un medico di turno all'ospedale policlinico di Palermo. Sono state messe due misure cautelari per altrettante persone. Si tratta di un padre e suo figlio. Il servizio. I carabinieri della stazione di Palermo-Reto hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo su richiesta della locale procura nei confronti di un 56enne e del figlio 33enne sottoposti rispettivamente agli arresti domiciliari e agli obblighi di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria perché accusati dei reati di violenza e resistenza pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate ed interruzione di pubblico servizio. In base a quanto emerso dal quadro indiziario, padre e figlio sarebbero coinvolti nell'aggressione verificatasi la sera del 10 luglio dello scorso anno presso l'ospedale policlinico di Palermo nei confronti del medico di turno del reparto di gastroenterologia. La causa scatenante sarebbe stata l'allontanamento dal reparto da parte del medico che aveva eccepito la mancanza di autorizzazione dell'altra figlia dell'indagato, lì presente in occasione del ricovero della madre e anche lei a seguito dei fatti deferita in stato di libertà all'autorità giudiziaria. Oltre ad aggredire il medico di turno, i tre avrebbero poi minacciato un altro medico e colpito con due schiaffi al volto un baregliere. Ci spostiamo adesso nel Trapanese, per la precisione a Marsala, dove i carabinieri hanno invece tratto in arresto l'uomo che la notte di Capodanno aveva rotto diversi finestrini di auto parcheggiate. Vediamo il servizio. I carabinieri della compagnia di Marsala hanno tratto in arresto un cittadino straniero pregiudicato di 32 anni per i reati di lesioni personali, danneggiamento e resistenza pubblico ufficiale. I militari dell'arma, allertati dalla chiamata di un cittadino che avrebbe notato il 32enne mentre rompeva i finestrini della propria auto, coadiuvati da tre pattuglie della Polizia Municipale di Marsala, si sono portati sul posto per le ricerche dell'uomo, che nel frattempo si era allontanato facendo perdere le proprie tracce. Grazie alle sinergiche attività di ricerca, l'uomo è stato individuato mentre era ancora in fuga e quindi fermato per l'identificazione. Durante il controllo, vistosi ormai di fronte alle proprie responsabilità, tentando di fuggire, ha aggredito i carabinieri operanti con calci e pugni, danneggiando anche parte degli interni della gazzella in cui era stato fatto salire per condurlo presso la caserma di Marsala. Gli accertamenti condotti in seguito dagli stessi militari dell'arma sul conto del fermato hanno consentito di appurare che la notte di Capodanno avrebbe danneggiato a calci e a martellate almeno ulteriori otto autovetture, infrangendo nei vetri al fine di poter rovistare al loro interno. Terminati gli atti di rito e dopo l'udienza di convalida, l'uomo è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora nel comune di Marsala. Ci spostiamo virtualmente nell'Agrigentino per parlare di una maxi operazione antimafia condotta dai carabinieri, operazione che ha portato all'arresto di dieci persone per droga ed estorsione il servizio. I carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento e del ROS di Palermo hanno eseguito dieci misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della DDA. L'operazione antimafia compiuta fra Licata, Palma di Montechiaro, Canicattì e tutta la parte orientale dell'Agrigentino è stata denominata Condor e ha portato alla luce gli appartenenti ad un'associazione a delinquere di tipo mafioso dedita al traffico di sostanze stupefacenti, a estorsione ai danni di imprenditori e a danneggiamenti a mezzo incendio. Cinque le misure cautelari in carcere eseguite oltre a quattro arresti ai domiciliari e un obbligo di dimora. Gli indiziati devono rispondere a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Le indagini coordinate dalla DDA di Palermo hanno consentito di acquisire un compendio investigativo sugli assetti mafiosi nel territorio di Favara e quello di Palma di Montechiaro, quest'ultimo caratterizzato dalla convivenza della articolazione territoriale di Cosa Nostra e di formazioni criminali denominate Paracchi sul modello della Stidda. In questo contesto i carabinieri hanno raccolto indizi sul tentativo di uno degli indagati di espandere la propria influenza al di là del territorio palmese, ossia su Favara e sul villaggio Mosè di Agrigento, sul ruolo di garante esercitato dal vertice della famiglia di Palma di Montechiaro a favore di un esponente della Stidda al cospetto dell'allora reggente del mandamento di Canicattì. A carico di alcuni degli indagati sono stati acquisiti anche gravi indizi sull'interferenza esercitata da Cosa Nostra sul lucroso settore economico delle transazioni per la vendita di uva e la progressiva ingerenza in questo comparto da parte della Stidda. In tale ambito sono emersi i rapporti del vertice della famiglia mafiosa di Palma di Montechiaro con l'andrina calabrese dei Barbaro di Platì. L'inchiesta ha portato alla luce anche il controllo illecito di una grossa parte del settore imprenditoriale delle slot machine e degli apparecchi da gioco installati nei locali commerciali. L'inchiesta Condor, sviluppata dai carabinieri del nucleo investigativo di Agrigento con il coordinamento del procuratore aggiunto della DDA Paolo Guido e dal PM Claudio Camilleri scaturisce dalle convergenze investigative del blitz effettuato il 2 febbraio del 2021. Allora il ROS che strinse il cerchio sull'ultima rete di fiancheggiatori del boss Matteo Messina Denaro eseguì 23 fermi di indiziato di delitto emessi dalla DDA. Fra gli arrestati di allora c'erano anche due poliziotti e la penalista mancata collaboratrice di giustizia Angela Porcello che avrebbe trasformato il suo studio legale di Canicatì nel quartier generale del mandamento di Cosa Nostra veicolando all'esterno i messaggi del boss Giuseppe Falsone. Spaccio di droga a Caltanissetta con gli agenti della Polizia di Stato che hanno tratto in arresto un giovane pusher. Tutti i dettagli nel servizio. I poliziotti della sezione volanti hanno tratto in arresto un ventenne nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un equipaggio della Polizia di Stato nel corso dei servizi di controllo del territorio ha eseguito una perquisizione domiciliare nell'abitazione del giovane ubicata nel centro storico di Caltanissetta. Una volta entrati in casa gli agenti hanno subito avvertito un forte odore acre e in diversi punti della casa hanno trovato 35 involucri di stagnola contenenti marijuana, altri due involucri contenenti rispettivamente cocaina e hashish e materiale utilizzato per il confezionamento. L'arrestato è stato condotto in questura per le formalità di rito e su disposizione del pubblico ministero della locale procura della Repubblica successivamente posto agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. All'interno dell'abitazione era presente anche un minorenne trovato in possesso di un coltello che è stato denunciato alla procura della Repubblica presso il locale tribunale per i minorenni per porto di armi o d'oggetti atti ad offendere. Per il momento è tutto, chiudiamo questa edizione di Spazio Notizia ma l'informazione prosegue su Sicilia 24. Grazie. Grazie.